Stai andando a nuotare? Solo un'immersione. Eda! Ehi! Controlla batteria e segnale. Cavolo! Mettiamo l'attrezzatura al riparo. Meglio essere prudenti. Quanta aria ti è rimasta? Cinquantacinque. Guarda! Non sono pericolose, sono solo curiose. Che succede? Perché sono scappate? Tuva! 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 Non ti vedo, accendi la torcia! Sto arrivando! Non puoi passare quella roccia! Tuva, devo tirarti fuori. Una roccia ha distrutto tutto. I telefoni, le bombole. Quassù è tutto distrutto. Eda, il raggio di segnalazione accende il raggio. Finirà l'aria a secondi. Aiuto! Eda! Eda! Eda, tirami fuori da qui. Sto congelando. Tuva! Ci serve più tempo. Cazzo! Aiuto!